io si vai ci bello ma si ce n'avevo non preoccupare chilo cocotella che è fatta l'altro dai no non fa un bambino ma non perchè l'hai fatto tutti ma guarda che c'era pure eh? come a me? oh oh bello bello no non si ferma questi incendio ci belli ci bello prova pure a ci bello come giù e già stai montita eh bello ci bello per me però adesso il cucinaio è fatto di metallo quello è conduttore tra poco ti brucerai la mano bene all'inizio è caldo poi dopo si